Nuova seduta di Consiglio Comunale ieri ad Andri, approvate a maggioranza tutte le delibere oggetto della seduta per le aliquote imutari e tasi, tutto resta com'è, le aliquote restano infatti ferme al 2015, nessuna variazione a ribasso. Nuova seduta di Consiglio Comunale ieri ad Andri, in attesa di approvare il bilancio di previsione nel mese di aprile, voti positivi sono giunti da tutta la maggioranza a tutte le delibere oggetto di approvazione della seduta, da quelle relative ai prezzi di cessione delle aree previsto nel piano di zona 167 nord e nel piano per gli insediamenti produttivi, a quelle sulla conferma delle aliquote per imutari e tasi per il 2017, secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale del 31 agosto 2015, quando si deliberò di aumentare l'IMU sulle seconde case dal 7,6 all'8,6 per mille e di raddoppiare la tasi dall'1 per mille al 2 per mille. Nonostante il contenzioso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla legittimità di quella delibera, su cui peraltro il Tribunale amministrativo non si è ancora pronunciato, in corso di Consiglio ieri il Sindaco Giorgino ha dichiarato che allo stato attuale delle cose le tasse comunali non possono essere diminuite per problemi di cassa. Dunque per i tributi locali resa tutto invariato. Ed è proprio sul fronte dell'Atari, quindi rifiuti, che il dibattito sia acceso. Le forze politiche di minoranza hanno contestato come l'aumento della tassa relativa non solo non abbia migliorato il servizio, ma anzi si ripercuote negativamente sulle attività imprenditoriali, spesso costrette a cartelle esose a fronte di gravi lacune. Inoltre la minoranza ha accusato l'amministrazione Giorgino di non avere prospettive in tema di rifiuti. Non bastano le multe per fermare il 35% dei cittadini andriesi incivili, che di adeguarsi alle regole della raccolta differenziata non ne vuole proprio sapere. Sarebbe il caso di avviare, propone l'opposizione, un'azione di educazione al cittadino e una politica di sgravi per coloro che si comportino bene, cioè che rispettino le norme. Paradossalmente invece, proprio su questi cittadini virtuosi, si ripercuotono con più forza gli aumenti delle tasse.